Il Parlamento con Renzi e qui contro, come si sta? Il Parlamento è a rappresentare il Partito Democratico e il sostegno al governo nell'autonomia del Parlamento, qua da ascoltare le voci di una parte degli elettori del Partito Democratico, quindi lì siamo in Parlamento perché ci hanno eletto gli elettori del Partito Democratico, qui c'è una parte degli elettori del Partito Democratico, come vede la congiunzione c'è, sono i cittadini che ci hanno votato e che in parte stanno qui. E se tolgono l'articolo 18? Il discorso non posso farlo adesso in un secondo, l'articolo 18 negli effetti pratici di oggi ha meno effetti pratici ma ha effetti dissuasivi molto forti, per cui è vero che oggi si ricorre meno all'articolo 18, ma togliere l'articolo 18 rende più debole il lavoratore, quindi questa è la soluzione che bisogna dare al problema. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS